C'è una leggenda da queste parti, un assassino sepolto ma non morto, una maledizione su Crystal Lake, una maledizione mortale, la maledizione di Jason Forris. Dicono che morì da ragazzo, ma continua a tornare, pochi sono sopravvissuti dopo averlo visto, alcuni hanno perfino cercato di fermarlo, ma nessuno può farlo. Jason, è vivo! Adesso è ancora più potente. Il posto di Jason è all'inferno e farò in modo che ci vada. Jason, vieni qui, vieni a prendermi, sono io quello che puoi, ricordi? Vieni! 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 Grazie a tutti.